Dainese è da sempre all'avanguardia per lo studio dei paraschine. Quest'anno ha introdotto sul mercato questo prodotto, il ProSpeed, che riesce ad integrare all'interno di questo unico paraschina delle tecnologie che ha portato avanti sviluppandoli attraverso tanti anni di esperienza. Sui lati del paraschina ci sono queste parti che riescono a rendere particolarmente elastico i movimenti, la struttura, per non danneggiare in nessun modo il comfort del pilota mentre è in sella. Le bretelle sono smontabili, per cui per i pistaioli che non amano sentire questo peso sulle spalle mentre guidano in pista possono eliminarle. E in più c'è una versione di questo paraschina che non presenta nessuna di queste bretelle o parti di aggancio laterale, che va infilata semplicemente nella sacca della giacca sportiva. Una delle caratteristiche tecniche di questo ProSpeed è che garantisce la minima circonferenza possibile una volta indossato, per non aumentare l'ingombro ovviamente del pilota e garantire la massima vestibilità della giacca superiore. Garantisce un altissimo livello di protezione, pur avendo un peso molto limitato perché è davvero molto leggero, ed è adatto ai motociristi sportivi che utilizzano la moto sia in pista sia su strada. Grazie a tutti!